Buongiorno, come andiamo? Io sto per iniziare il mio weekend in una maniera diversa dopo settimane, dopo mesi posso dire perché negli ultimi mesi mi sono quasi sempre concentrata e dedicata alla produzione di video e alla creazione di reel, video per youtube, foto su instagram, un sacco di contenuti e oggi ero finalmente un pochino più scarica, anche se devo comunque produrre per non rimanere indietro, però ecco avevo una giornata un pochino più scarica meno male perché ho ricevuto la chiamata d'emergenza e devo andare a trovare un'amica, andiamo a passare una giornata insieme e meno male, ripeto, perché non uscivo da mesi e avevo proprio bisogno di staccare e lei è arrivata puntualissima ho già scelto l'outfit, è qua sul letto, abbiamo un paio di pantaloncini, un maglioncino e un dolce vita per non avere freddo anche perché sono stata raffreddata l'ultima settimana, infatti mi è quasi passato però, ho ancora la voce giù e quindi non mi voglio ammalare di nuovo, anche perché ieri sera sono stata alla mia festa di carnevale numero uno e ho preso un po' di freddo per cui sono tornata un po' indietro rispetto alla guarigione però oggi c'è un sole stupendo fuori e io non vedo l'ora di uscire cosa altro vi devo dire? Vi devo confessare questo, la mia vita è diventata talmente piena e non so come è successo, cioè veramente è una cosa che non mi aspettavo da me ecco è diventata talmente piena che nel weekend devo decidere letteralmente le mie priorità perché altrimenti non riesco a fare nulla e siccome una delle mie priorità assolute siete voi non potevo escludervi da questo weekend così diverso anche perché adesso mi vesto per uscire quindi vi faccio vedere l'outfit of the day ma poi vi faccio vedere magari qualcosina di quello che faremo oggi perché vado a fare una cosa un pochino diversa dal solito e poi stasera c'è la festa di carnevale numero 2 per cui ci prepareremo insieme anche per stasera vi faccio vedere esattamente l'outfit che ho scelto l'acconciatura, il make up, sarà tutto super divertente e nulla, non posso perdere troppo tempo perché non ne ho ma devo fare tutto super velocemente e dicevo sono talmente piena di cose da fare che veramente devo scegliere cosa fare questa cosa mi entusiasma talmente tanto e allo stesso tempo mi fa dire ma chi sei? chi sei? cioè io non lo so questa persona che sono diventata che sto diventando perché non si dice più sono così sono diventata così anzi io sto diventando sono in continuo divenire e questa persona qua che sto continuamente diventando e cambiando mi fa entusiasmare talmente tanto e allo stesso tempo mi stupisce talmente tanto che voglio sempre condividere questa cosa con voi e con tutti gli altri col mondo praticamente perché è una cosa bella cambiare e questa cosa non l'avevo capita prima non la capivo prima ero sempre molto focus su quello che ero su quello che era la mia persona su quello che volevo essere e invece col tempo mi sono resa conto che è più bello cambiare è più bello essere oggi una persona domani un'altra senza deciderlo cioè seguendo semplicemente l'andare delle cose e lasciandosi cambiare da quello che accade anche oggi ad esempio idealmente avrei voluto rimanere a casa fare delle cose per la casa fare dei video ma in realtà qualcosa dentro di me mi diceva che non voleva fare cose per la casa chi mi segue da un po' di tempo mi conosce come quella persona che era fissata con la casa non diciamo fissata perché è un brutto termine ma che ci teneva particolarmente ad avere una casa bella una casa sempre in ordine perfetta da copertina e quella persona non c'è più nel senso che adoro ancora le cose belle mi piacciono le cose belle mi piace avere una casa bella in ordine ma non è più una priorità per cui se non ho tempo per fare questo non toglierò del tempo ad altro per farlo ad esempio se la casa non è proprio bella bellissima come vorrei e devo fare contenuti video sceglierò di fare contenuti video perché questa è la mia priorità in questo momento a parte il discorso delle priorità e il fatto che comunque non lo so c'è qualcosa dentro di me che ha un rifiuto verso le cose della casa a un certo punto mi dovrò sforzare e spingere a fare delle cose tipo userò un video come scusa come spinta in più per obbligarmi a farlo perché urge urge è un cambiamento in vista della primavera però ecco diciamo che non è più una cosa che faccio volentieri e non so più che cosa sto dicendo perché sono tipo di corsissima e mi sto vestendo sto facendo più cose contemporaneamente e mi sto rendendo conto che ho perso un po' la traccia del discorso quello che vi volevo dire è questo sto cambiando sto cambiando parecchio ogni giorno e questa cosa mi rende felice e la realizzazione più grande che ho avuto questi giorni è il fatto che in passato magari pensavo anzi ero convinta di non essere una persona capace di legare con qualcuno ma questo non era vero cioè era una cosa falsa una convinzione falsa che avevo di me dovuta ad una serie di cose una serie di circostanze che mi facevano credere questo e oggi finalmente sono consapevole di essere una persona che ha bisogno di stare in mezzo alla gente anche solo dirlo mi rende veramente così tanto felice avere questa realizzazione che non lo so cioè non so neanche cos'altro dire sono proprio felice sono felice di aver scoperto questo di me ovvio poi ogni tanto ho bisogno dei miei momenti dedicati solo a me stessa nella pace dei sensi senza dover badare ad altro però se mi impegno così tanto le giornate di persone è successo qualcosa dentro di me che mi ha fatto capire che io ho bisogno di stare con la gente e questo è bellissimo volevo condividere con voi mentre sono pronta vi faccio vedere l'outfit e usciamo abbiamo i miei pantaloncini bellissimi in single pelle color verde salvia in maglioncino a righe in dolce vita un paio di collant bellissimi a può ma non sono può sono tipo dei rombi sono stupendi indosserò gli stivali lunghi il cappotto nero lungo e basta sono pronta ho una borsetta di Tory Burch che adesso vi faccio vedere l'avrete già vista diverse volte però eccola è questa qua che è in tinta con i pantaloncini e sono pronta eccomi qua alla fine ho optato per gli stivaletti gli anfibi perché potrebbero servirmi per fare un reel se riesco ad infilarlo quando ho finito in giro con la mia amica mi sono fatta anche le mie labbra signature e sono pronta eccomi di nuovo qua sono tornata da poco a casa nel mentre sono riuscita anche ad andare a lavare la macchina perché era tipo lercissima ma a parte questo la giornata è stata davvero bellissima ho passato un pomeriggio davvero meraviglioso insieme alla mia marci abbiamo fatto tipo 13 chilometri di camminata e abbiamo passeggiato per Milano siamo andate a prendere un brunch bar aperitivo all'arco della pace al jungle che tra l'altro locale bellissimo ve lo straconsiglio non per il cibo non c'erano molte alternative per me vegetariana e gluten free c'erano un po' di verdure con del formaggio dentro ma a parte questo i drink sono wow il locale è bellissimo e in una giornata bella di sole come oggi si sta davvero da dio poi nell'andare lì nel fare la nostra passeggiata siamo passate anche dal mercato io che ho sempre sottovalutato un po' i mercati sono rimasta colpita in modo molto piacevole perché sono riuscita a trovare una cosina molto interessante che ovviamente ho comprato adesso ve la faccio vedere ho preso praticamente questo toppettino qua rosa con le manichine a sbuffo e a fierellini è veramente stupendo non lo indosso ora magari ve lo faccio vedere domani alla luce del giorno perché merita davvero è veramente bellissimo me ne sono innamorata subito e poi ho preso un'altra cosa siamo arrivate anche in city life e siamo entrate in libreria e abbiamo comprato dei libri io ho preso questo si chiama notturni di kazoo ishiguro e mi ha incuriosito parecchio perché sono questi cinque racconti collegati dalla musica in qualche modo cinque storie di musica e malintesi di abbandone incontri di amore disincantati cinque pezzi intresi di una comicità stralunata che quasi impercettibilmente cede il passo a note malinconiche e crepuscolari è proprio ciò di cui ho bisogno anche perché sto mettendo su delle storie per comporre uno spettacolo teatrale che vorrei portare in scena entro luglio e questo libro sento che potrà contribuire e quando andremo in scena ve lo dico così se avete voglia venite a vedermi a teatro ora devo però correre in doccia e prepararmi per stasera perché c'è la seconda festa di carnevale e credo di aver deciso per l'outfit adesso ve lo faccio vedere ok vediamo velocissimissimamente l'outfit perché devo scappare alla fine sono andata per la versione di Wednesday Glam eccomi qua sono tipo di corsissima questo è il make up i capelli non sono riuscita a farli adesso li faccio in macchina perché mi accompagna mia cugina intanto l'outfit è questo ho aggiunto tra l'altro anche la cinturina ed è perfetto ciao se vi dico che ormai è il giorno dopo mi crederete io quasi quasi non ci credo ormai domenica sera quasi e questo weekend veramente è volato è stato talmente intenso talmente pieno di cose da fare persone da incontrare e esperienze che sono tipo frastornata frastornata e avrei bisogno di un weekend per riprendermi dal weekend questa è praticamente la situazione in tutto ciò sono tornata da queste parti per farvi vedere come promesso il top indossato perché è stupendo guardate quale meraviglia avevo veramente bisogno di un top non solo uno più di uno in realtà ho bisogno di top da indossare in ufficio e sto cercando di comprarne di diversi ma le voglio particolari in un certo modo e questo qua che come vi anticipavo ho trovato al mercato è veramente bellissimo perfetto per la primavera in tutto ciò come vi dicevo il weekend sta per finire per cui adesso devo mettere a posto delle cose sistemarmi prepararmi per domani magari adesso prima di tutto vado a farmi una corsetta perché questo weekend non mi sono proprio allenata e sono sfinita comunque sono stanchissima però sento il bisogno di sfogarmi con una corsetta ma a parte questo è tutto vi volevo rendere partecipi di un weekend un pochino più strano un pochino più particolare e questo video è un po' over the place come dicono in inglese un po' disagiato non si capisce molto bene però così è stato anche per me mi sembra di aver sognato tutto quello che ho vissuto questo weekend perché è stato tutto talmente veloce che ancora faccio fatica a metabolizzare comunque è tutto per questo video ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ma fino ad allora prendetevi cura di voi ciao